Seconda casa che andiamo ad inaugurare a beneficio dei bambini e delle loro famiglie? Sì, una grande espressione di generosità di chi ha vissuto la necessità e la comprensione rispetto a chi affrontando una malattia molto difficile ha bisogno di stare vicino al proprio bambino e poter avere a disposizione un punto d'appoggio vicino all'ospedale di Torrete, quindi vicino alle strutture che poi accolgono i piccoli malati è un fatto molto importante di grande vicinanza e di grande sensibilità che qualifica la parte più umana della risposta sanitaria fatta attraverso la generosità di chi fa questa scelta quindi noi ci sentiamo molto vicini, molto grati, già è eccezionale il primo appartamento, si aggiunge questo secondo insomma chi si reca, chi si rivolge ai nostri servizi sa che può contare anche sulla vicinanza di persone, di associazioni di volontariato che danno risposte di questo livello, di questa natura